E' un paese molto vecchio, quasi fatiscente, adesso lo stanno ricostruendo pian piano, buttando giù le case e ritirando su delle altre. Giusto per ricollegarsi al pezzo precedente, vi ho parlato di quello che sono, ora vi parlo della mia storia, che fatta di... Io, ascoltando la traccia, ho notato che nel ritornello, tutti e due le quattro barre, con un'immagine forte, che è spargette le mie cedere dall'era. La cosa che ho imparato è che se fai un piano e ci metti dentro te stesso e l'amore, fotte un cazzo se il piano non viene realizzato in pieno, no? E' la lotta per arrivare a quella roba lì che ti dà soddisfazione. Quindi, il mio incubo è tutto quello che a quella roba lì non ti ci fa arrivare. La storia è questa qua. Scarabeo, per me, è una droga maledetta. Cioè, avete presente il gioco dello Scarabeo, no? Io vi dico che a Bologna stavano per saltare delle amicizie giocando a Scarabeo. Non sto scherzando, guarda, su serie. Non si scanna con il suo simile, nel mondo troppo giusto, nel mondo troppo sensibile. Ma il piatto, il peccato, il bailo, se niente cambia. A conciugare da me stesso, dalla mia gabbia, mi dà le labia da spiegare. Cioè, non ho bisogno di altri. A conciugare da me stesso, dalla mia gabbia, mi dà le labia da spiegare. A conciugare da me stesso, dalla mia gabbia.